Bocelli, grande gioia per il figlio del famoso tenore. Piovono auguri per lui Il commovente annuncio fa emozionare papà Andrea, che soddisfazione. Andrea Bocelli non potrebbe essere più felice, sta vivendo un momento d'oro Arriva il lieto annuncio per il figlio del famoso tenore che lascia tutti di stucco I social sono emozionati per lui. Andrea Bocelli felice più che mai il tenore è al settimo cielo Il famoso artista italiano, conosciuto in tutto il mondo, non potrebbe essere più contento Arriva la lieta notizia per il figlio che lascia tutti di stucco, i social sono un fermento e piovono messaggi di aguri e di congratulazioni per il giovane figlio d'arte Ma che cosa sta succedendo? Lo scopriamo insieme. Andrea Bocelli ha avuto una vita sentimentale molto movimentata Nel 1992 si è sposato con Enrica Cenzatti e dal loro matrimonio sono nati due figli, Eimos nel 1995 e Matteo nel 1997 Dopo tanti anni di amore, i due hanno deciso di porre fine al loro matrimonio e nel 2014, Andrea ha sposato invece Veronica Berti, la sua attuale compagna, che l'ha reso papà di Virginia, la sua terzo genita La lieta notizia riguarda uno dei suoi due figli maschi. Il dolce annuncio riempie di gioia il cuore di papà Andrea Il figlio del tenore fa il lieto annuncio che grande soddisfazione per papà Andrea che si ritrova ad avere un figlio straordinario Il protagonista di un lieto evento è Matteo Bocelli. Il giovane cantante, che in più occasioni si è esibito in teatro e nei vari concerti anche in compagnia del famoso papà, sta esordendo anche come attore Matteo ha, infatti, debuttato nella pellicola 3000 years of loneliness che è stata presentata al Festival di Cannes Per questa pellicola, il figlio di Bocelli, non soltanto ha avuto un ruolo come attore ma ha anche cantato la colonna sonora del film Si tratta della prima apparizione, come attore, per Matteo, in una pellicola diretta da George Miller, un grande autore e regista candidato a diversi premi Oscar Ha così commentato la lieta la notizia il giovane talento, ebbene sì, il talentuoso figlio di Andrea Bocelli non è dunque soltanto un cantante ma anche un attore La musica, come ha affermato lui stesso, resta sempre il suo primo amore ma anche la recitazione, che è un'altra sua grande passione, è qualcosa che vuole portare avanti Papà Andrea è orgogliosissimo di lui e, a proposito del rapporto che ha con il famoso tenore italiano, il figlio ha affermato che tra di loro c'è tanto dialogo che è alla base di tutto e che quando lui ha un minimo dubbio, corre dal tenore per avere il suo parere Per essere così giovane, Matteo ha solo 25 anni, ha già scritto oltre 70 brani La sua voce poi è uguale a quella del papà, forte e potente, attira con gioia gli ascoltatori che lo raggiungono in giro per il mondo per prendere parte ai suoi concerti E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video